Continuano le operazioni delle forze dell'ordine per il contrasto alla droga, alla detenzione e allo spaccio. Nelle scorse ore, ultimo in mero ordine cronologico, c'è stato l'arresto di Makbullah Zedin, poiché in possesso di 6,25 grammi di cocaina e 2,85 di hashish. A far scattare alle manette i militari del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Agropoli, che lo hanno fermato in flagranza di reato, con l'accusa per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Nell'intera provincia di Salerno, con focus in alcune città o territori, come ad esempio la Piana del Sile e l'Alto Cilento, ma il capologo salernitano non è purtroppo esente, il fenomeno dello spaccio è sempre molto presente. Stando ai comunicati ufficiali, tra gli arrestati c'è una maggioranza di stranieri, in particolare per quanto riguarda lo spaccio. Una sorta di pesci piccoli che coloro che gestiscono il traffico, questi italiani, usano per le semplici manovre di smercio. In ogni caso, le attività di carabinieri, polizie e guardie di finanza sono sempre maggiori, con un'alta presenza sui territori. Ciò nonostante le difficoltà di ogni giorno e l'ormai atavica mancanza di uomini e mezzi. Diverse, infatti, l'operazione delle forze dell'ordine è andata a buon fine negli ultimi mesi, con numerosi arresti. La lotta allo spaccio non è sicuramente una battaglia vinta, perché c'è ancora tanto da fare, ma sta di fatto che la presenza dello Stato è oggi tangibile. Terminata l'operazione denominata Estate Sicura, fortemente voluta dall'ormai ex prefetto Francesco Russo, continuano i controlli sulle strade, anche per monitorare i traffici di sostanza stupefacente, che in particolar modo nel fine settimana si intensificano.